ciao a tutti e a tutte voi dal vostro coloratissimo andrea cartotto nella veste di ambasciatore delle scuole liguri per progetto scuola digitale liguria di docente formatore nell'ambito della didattica digitale insomma questo per dire che non potevo perdere anche quest'anno lei l'agenda settimanale del docente 23 24 data alle stampe da epict l'associazione che non ha bisogno di presentazioni a cui fanno riferimento amiche colleghe come la cara angela maria sugliano federica tamburini ed altre colleghe ancora insomma questa agenda che si trova anche su amazon è una sorta di messaggio promozional letterario avete presente striscia la notizia più o meno è un'agenda che ha un sacco di contenuti interessanti ad esempio le giornate mondiali ad esempio alcune attività da prototipare poi in classe non so la graphic novel ad esempio ora tiro anche le orecchie perché adesso consulto e guardo se c'è qualche mio video corso è qualche mia attività qui dentro se no la dobbiamo inserire l'anno prossimo ma insomma sorrisi a parte è un'idea molto carina ci ho messo volentieri la faccia e quindi ve la segnalo in piena come dire sincerità e spontaneità opla e epict l'agenda del docente buona estate